E' stato il show proprio! Oggi molte, dietro molte mura domestiche, avvengono violenze sulle donne. In questa esibazione Isabel esprime tutto il dolore di una donna che al posto dell'amore trova solo violenza nell'uomo che dovrebbe essere l'uomo della sua vita. A voi Isabel! E ciao! Dietro alle lezze due belle occhie miei e sotto il tarme ho detto di un sorriso e lì di fronte vuote di pensieri con la farina sparsa sul mio viso sembro un bagliaccio travestito e luto che si domanda che sto a fare qui lui sembra un corpo nero e brutto ma vuole solo farsi dire sì e mi domanda cose senza senso cose nonche alla stupidità di un corpo che vuole il consenso solo dai corpi della sua città appoleato sulla sua poltrona lui mi incognisce col suo picco acuto potrei annegarlo con il suo aspetto per non parlermi con sincerità e io col mio uomo solo un giorno fa ero lontana con la mia dignità è stato gelato sulla scriveria lui sta mangiando sulla telemia e sta cercando con la sua mia via e mostrando la sua dignità e io credo che la preogenza è la sapienza che ha presso là a giudicare la sua compocenza senza pensare nella sua valutazione è il suo palco, un colonero e ha svolto a punto quando sente più lui sta volando come uno sbarbiero e non c'è modo di tirarmi giù direi con l'amico e tutti di me e sui figli ho vinto con un sorriso gli occhi di ferro e guardano i pensieri con la famiglia spazio e sui uomini sono sempre un po' di amici e mi sono tanto e si da volta che sto amando in fi e mi sono sempre un po' di amici e mi sono sempre un po' di amici e mi sono sempre un po' di amici sono sempre un po' di amici e mi sono sempre un po' di amici e mi sono sempre un po' di amici e mi sono sempre un po' di amici solo un giorno fa è una montagna con la mia dignità Grazie!